Attenzione! Non resiste l'aria, cristalina! Sto attaccando! Incazione! Sto attaccando! Nenigo individuato! Avviliarmi! Nenigo individuato! A tutte le unità! Continuate! Non distruggare la via repubblica! C'è marino! Siamo buoni amici! Ringrazio versante! Stormo! Stormo! Controllerai bot! Abbandetelo! Un'altra di 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 un'altra A me sembra morte. Arrivo! Moviamoci! E' presa un altro! Bene fatto. Che macello. Riuniamoci a Marcus e Kate. Era ora che vi faceste vedere. State bene? Bird, li abbiamo! Dove dobbiamo andare? Beh, siete al teatro? C'era un gruppo di evacuati. Ho perso il contatto con l'Ur un'ora fa. Ok, li raduneremo e li porteremo in salvo. Eh, Bird, se qualcuno chiama i rinforzi, non ascoltarlo. Ricevuto, ma ce ne sono già un sacco là fuori. Ricevuto. Teniamo gli occhi aperti. Ehi, quell'attore, come si chiama? Jace Stratton. Era nello spettacolo che facevano qui, no? Non preoccuparti. Jace sa badare a se stesso. Ehi, stai bene? Sì, non ci pensare. Solo un uomo di testa. Bene, andiamo. Cavolo, niente. Se qui c'erano delle persone, dove sono finite? Forse sono scappate. Apriamo quel sipario. Grazie! Oh. 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 Andrà bene. Ok, proviamo questa. Ragazzi, abbiamo un problema. Il DR1 corrompo non è una buona cosa. Guarda dietro. Gli evacuati sono tutti morti. Stiamoci non buoni e proviamo a uscire da noi. Donnazione! Uccidete quella cosa! Arribalo! Ci penso io! Non è ancora finita. Ringrazio. Attenzione. Vento io! Sono sul balcone! Vanno a me! Sto arrivando! Guarda! Guarda! E' fatta. Adesso usciamo di qui. Troviamo gli altri. Ehi, possiamo uscire di scena sulla destra. Baird. Gli sfollati del teatro non ce l'hanno fatta, ma Cole, Fuzz e Carmine... come sono essi. Lizzie è tornata al convoglio, ma continuano a depistarla. Clay ha trovato un Raven, ma non riesco a raggiungere Cole o Fuzz. Li avete sentiti? No, non ancora, ma continueremo a cercare. Eliminati! Porca vacca. Delta, dove stiate? Ordine dal comando, ritiratevi. Funzione terminata. Controllo, qui Delta. Non ti ricevo, siamo al teatro. Ripeti? Dovete scappare. Lasciano cadere l'insediamento. Aspetta, non possiamo usare il martello. Tirare a quella dannata cosa. Andate al cancello, f***are e basta. Baird, siamo bloccati dall'altra parte della città. Qui Lizzie. Siete al teatro? Lizzie, grazie a Dio. Affermativo. Mi hanno deviato tipo sei volte. Posso prendervi. Arrivo da voi. Noi siamo qua. Delta, chiudo. Qui dentro, rosa! Ehi! Wow, 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 siamo noi! Abbiamo... Abbiamo portato compagnia. Oh, merda! A terra! Ehi, bastardo che ha fattuto il mare! Cosa? Come lo sei? Non dimentico mai! Hai una pancia! Quindi dove si spara? Tirate alle bustole! Oh, merda! Oh, merda! Ci siamo! Arrivaro! Scusatemi un secolo, torno subito. Gol! Vado a vai! Ok, torno subito! Aspettate! A dove è col? È andato a prendere un gelato. Non ne ho idea! Continua a combattere! Scusatemi un secolo, torno subito! Woohoo! È uno di cena, spruzzo! Gol! Sei fuori? Sempre! Paura alla bocca piena! Allora, Del, riconosci qualche faccia amichevole? Forse quel manifestante pacifico che mi ha rotto il naso? Ti meritavi di peggio, di un naso rotto. Perché non mi fai vedere che cosa mi meritavo? Scusatemi un codardo del cazzo! Codardo? Wow! Beh, ho una notizia per te! Forse! No. Indovina che ho ordinato di sparare il primo colpo, Del. Proprio su quei pacifici manifestanti di cui parli. Sì! Esatto! Proprio il tenente perfettino! Ragazzi! Andiamo, ragazzi! Insomma, nel senso, stavano lanciando incendiarie. Era tutto confuso, ok? Io non volevo... Che succedesse? Lasciamo perdere. Bibbi! Ecco la cavalleria! Ascoltate. Ne riparliamo più tardi. Andiamo. Veloci! Dobbiamo portarli via di qui! Oh! Cazzo, siamo bloccati! Avanti! Acchieriamo il loro fuoco! A tutti i camion! Indietro! Baird! Baird! Stiamo perdendo il convoglio! Ci serve il martello! Cosa hai detto? È pronto a sparare, vero? Ragazzo, non ho nemmeno le coordinate. Vai! Usami! Ma sei impazzito? Forse! Devi puntare sulla mia armatura e correggere il tipo! No, non ho intenzione di farlo! Troppo tardi! Non abbiamo scelta! James! Fuoco di copertura! Baird! Baird! Chi sia! Sì, 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 sì. Uh, ho visto? Sapevo che avrebbe funzionato. Bird! Bird! Che cazzo succede? Non riesco a controllarlo. Iris, spegnilo. Devi spegnerlo. Oh, dall'azione. Scappate! Oh, no. Move ante me! Move ante me! Dai! Oh, man. Tutti fuori! Tutti fuori! Oh, no! Oh, shit! Did I leave? Oh, no! All right.